Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV6. In apertura l'emergenza sanitaria Green Pass importante per riprendere una vita normale ma sarà importante vaccinarsi perché le varianti del Covid-19 ci saranno ancora. Così ai nostri microfoni l'infettivologo Giustino Parruti, il servizio di Paolo Renzetti. Dal 6 agosto scorso in vigore il Green Pass che permette ai cittadini di poter partecipare agli eventi al chiuso ma da settembre potrebbe essere obbligatorio anche a scuola e sui mezzi pubblici per l'infettivologo Giustino Parruti parliamo di uno strumento necessario. Da una valutazione del rischio che l'utente di un servizio o il partecipante a un raduno sia portatore di coronavirus quindi ci dà un giudizio di estrema improbabilità che una persona sia portatore di coronavirus assemblando una o più condizioni delle quali appunto la vaccinazione entro un certo periodo o la combinazione di malattia pregressa e vaccinazione per l'altra parte insieme al tampone negativo delle ultime 48 ore cioè assemblando tre diverse condizioni ci rende fruibili in un contesto di ripresa purtroppo della circolazione del virus variante di fare la vita sociale che abbiamo tanto desiderato si può fare un matrimonio, si può fare una festa, si può fare appunto una scuola in presenza sono tutte condizioni che vengono soddisfatte oggi discutevamo anche, ve lo dico sinceramente, se non fosse opportuno addirittura nell'ambito delle visite in ospedale utilizzare la stessa regola perché aumenterebbe ulteriormente il livello di sicurezza sulla vaccinazione in Abruzzo numeri positivi come spiega ai nostri microfoni il responsabile del reparto di malattie infettive del Santo Spirito la situazione dell'Abruzzo è ottima nel senso che stiamo andando sopra la media nazionale in termini di copertura con la doppia dose, con i singoli vaccinati e soprattutto abbiamo un record sulla fascia di età dei più giovani insieme a poche altre regioni abbiamo superato il 25% quindi sono tutte cose molto positive su questo concetto dell'immunità di greggio però io mi sono espresso sempre allo stesso modo e non posso che ribadire la stessa cosa allora, questo virus purtroppo nella sua rapida evoluzione ha mostrato la capacità di selezionare sempre più varianti che si contraddistinguono per la alta contagiosità preoccupa un po' la variante Epsilon ma il dottor Parruti invita a non drammatizzare spiegando che le varianti ci faranno ancora compagnia per tempo quindi noi avremo questo virus che purtroppo riesce a modificare la proteina spike, la proteina recettoriale in forma talmente efficiente da non perdere di patogenicità che cosa però sappiamo di per certo che i vaccinati con doppia dose o coloro che hanno fatto l'infezione con una variante poi un richiamo vaccinale iniziano lo sviluppo di una classe di anticorpi molto totipotenti molto validi su tutte le varianti e soprattutto inducono un gran numero di cellule nella maggior parte dei vaccinati che sono buoni per tutte le varianti quindi il messaggio positivo qualunque sia la variante in circolazione è che il vaccinato ha una protezione contro la mortalità e in larga misura contro la malattia grave che è assolutamente importante Ed ora l'andamento della pandemia nella nostra regione sono 78 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo sono emersi dall'analisi di 1894 tamponi molecolari il risultato positivo è il 4,12% dei campioni eseguiti anche 4.260 test antigenici i ricoveri passano dai 50 di ieri ai 54 di oggi le ospedalizzazioni nel giro di due settimane sono aumentate del 125% non si registrano decessi il bilancio delle vittime è fermo a 2.515 i nuovi positivi hanno età compresa tra i 3 e gli 83 anni gli attualmente positivi sono 1.804 53 pazienti più 4 sono ricoverati in ospedale in area medica e 1 invariato e in terapia intensiva mentre gli altri 1.750 sono in isolamento domiciliare i nuovi guariti sono 74 16 sono i nuovi casi residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila 21 in provincia di Chieti 6 in quella di Pescara e 32 nella provincia di Teramo e noi cambiamo argomento potrebbe avvicinarsi la riapertura delle piscine lenaidi di Pescara dopo il bando per l'affidamento temporaneo della gestione pubblicato sul Burra vediamo Assessore è stato già aperto da qualche giorno il bando per la segnazione e gestione provvisoria dell'impianto dell'enaidi dunque c'è una schiarita che potrebbe far pensare e ipotizzare a una riapertura a questo punto a settembre sì, il nostro goal, il nostro target, il nostro obiettivo è quello di riaprire il complesso lenaidi la nostra unica apprezzione, l'unica necessità che io come Assessore allo Sport avverto non soltanto perché lenaidi rappresentano una centralità nell'ambito del nuoto per la città di Pescara ma perché sono un simbolo dell'intero Abruzzo e dell'intero centro Italia un complesso incredibile che ha passato delle stagioni ravagliate e che deve vedere assolutamente una schiarita ecco perché io ho tifato sempre perché non ci fossero implicazioni politiche o partite da questo punto di vista vanno valutate tecnicamente le dinamiche complesse che riguardano un centro così grande e così difficile da gestire non è casuale che chiunque si sia cimentato con una gestione di questo tipo abbia avuto delle difficoltà ci siamo impegnati a fare uno studio per verificare la fattibilità di un percorso che possa riguardare anche il pubblico c'è ancora un project che abbiamo approvato in giunta sono fiducioso sul fatto che l'ambito tecnico che è molto preparato questo della regione Abruzzo e l'ambito sport dell'impiantistica sportiva sia in grado di dare gli opportuni elementi per poter prendere la decisione politica migliore firmato oggi a Pescara un protocollo di intesa tra Abruzzo Sviluppo agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara e Arap regionale per favorire e supportare sotto il coordinamento della regione Abruzzo le aziende abruzzesi all'Expo Dubai in programma dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 vediamo Abruzzo Sviluppo, Arap e agenzia di sviluppo scendono in campo per affiancare le aziende della nostra regione che parteciperanno all'Expo di Dubai si tratta di un'occasione unica e da sfruttare per il rilancio del Made in Abruzzo questa mattina in regione a Pescara è stato a tal proposito firmato un protocollo di intesa fra Abruzzo Sviluppo, Arap e agenzia di sviluppo per supportare le nostre aziende innanzitutto la scelta strategica sui settori di riferimento che poi sono i settori della strategia 3 della regione Abruzzo e che quelli che in questo momento in qualche modo qualificano il rapporto tra industria, sviluppo e innovazione cioè meccatronica, aerospazio, il mondo di scienza della vita il mondo ovviamente del farmaceutico e tutto quello che gira intorno all'agroindustria nella premialità delle individuazioni e delle scelte si è fatto appunto un ragionamento molto chiaro sulla innovazione e sulla partecipazione a bandi precedenti che in qualche modo davano questa premialità proprio perché si vuole investire in modo chiaro sull'eccellenza l'Abruzzo ha un driver sull'innovazione molto importante e il valore dell'industria per questa regione non devo scoprirlo io, è la regione più industrializzata del meridione e quindi è giusto che le eccellenze possano non solo qualificare la nostra regione ma possono diventare un driver di sviluppo e di rappresentanza all'estero l'Arap ha iniziato lo screening di tutte le imprese non solo quelle che sono nei nuclei industriali ma di tutto l'Abruzzo già 7 mesi fa come braccio operativo dell'assessorato alle attività produttive siamo stati indicati dal Consiglio regionale come soggetto attuatore per i finanziamenti quindi accompagneremo le imprese a Dubai con la nostra organizzazione insieme ad Abruzzo Sviluppo ormai è nata una collaborazione che prevede un cambio di paradigma cioè un approccio sistemico a tutte le problematiche delle imprese non solo per tutelare i luoghi dove si fa impresa che sono i luoghi che gestisce Arap cioè i consorsi industriali ma anche per pensare al brand Abruzzo nel mondo e quindi a esportare i nostri prodotti ma anche ad attrarre le imprese sul territorio e da pochi giorni dal suo lancio ha già superato le 21.000 firme la petizione disponibile su change.org per chiedere al comune di Pescara di salvare la riserva naturale dannunziana simbolo di questa città in cui tanti animali trovano rifugio e tante famiglie e ragazzi si incontrano e vivono bei momenti insieme nello specifico i firmatari chiedono di riabilitare in tempi brevi tutta l'area che di recente è stata investita da incendi devastanti ripiantando ogni albero permettendo di far rivivere questo bel simbolo della città la riserva nota come la pineta d'Avalos o parco d'Avalos ricordano infine gli autori è caratterizzata dalla dominante presenza del pino d'Aleppo e del pino marittimo numerose sono le specie autoctone e alloctone pagina sindacale far conoscere i propri diritti ai lavoratori stagionali e ragionare in modo complessivo sul settore del turismo e sul sistema di accoglienza così stamani i CGL e Filcams di Teramo hanno presentato un'opportuna campagna di informazione vediamo troppi pregiudizi sul lavoratori stagionali innanzitutto iniziano forse non lo sono mai stati dei lavoretti perché ormai la percentuale di persone che campa con il lavoro stagionale è davvero molto alta e l'altra che appunto considerando un lavoretto considerando un lavoro tra virgolette minore forse a questo lavoro vengono tolti più diritti rispetto a tanti altri da noi ormai sono due mesi che i lavoratori affollano le nostre sedi per denunciare che lavorano molte più ore rispetto al contratto e queste ore non vengono pagate che non hanno un riposo settimanale ecco già questi due elementi che invece vengono sanciti dal contratto anche per il lavoratore stagionale ossia che hanno l'obbligatorietà di avere un riposo settimanale e se nel caso ci fossero delle ore di straordinarie che queste ore venissero pagate invece molti ci hanno denunciato che queste due cose non avvengono noi con l'iniziativa di oggi pratica non solo vogliamo un'altra volta denunciare quelle che sono in pratica i limiti e le illusioni che ci stanno nel lavoro stagionale ma vogliamo anche provare a iniziare un percorso per rinvertire la tendenza e diciamo alle imprese con forza con convinzione in pratica incontriamoci prima cominciamo a programmare vediamo quali sono le difficoltà quali sono i punti di caduta e vediamo come infrarre questi punti di caduta rispetto a quello rispetto ai contratti rispetto alle persone deve essere preparato la campagna informativa partirà già da stasera sulla nostra pagina facebook e pubblicheremo un video a settimana in cui andremo a descrivere quelli che sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che sono contenute nelle leggi e nel contratto collettivo nazionale partendo appunto da quello che dicevamo prima quindi dalle ore di lavoro andando a finire anche alla disoccupazione al diritto alla Naspi che hanno questi lavoratori quindi cercheremo di dare una panoramica su tutto quello che comprende il lavoro stagionale per informare per dire agli operatori dei lavoratori stagionali che hanno dei diritti che si possono rivolgere presso le nostre sedi perché noi vogliamo iniziare in maniera seria anche confrontandoci con le imprese e con le aziende a discutere e a dibattere rispetto al lavoro stagionale perché non venga più considerato come un lavoretto è un lavoro a tutti gli effetti è uno dei lavori che ha una maggiore precarietà questo c'è il dato nazionale in cui del 21% del lavoro precario ben oltre il 40% riguarda il turismo quindi è un lavoro che più di altri forse merita rispetto ci spostiamo nel capoluogo e apriamo la pagina degli eventi la mamma e insegnante Marianna Capulli il neolaureato in medicina Federico Santilli e la studentessa del conservatorio Martina Ciccone saranno loro rispettivamente ad impersonare la dama della bolla il giovin signore e la dama della croce nel corteo storico della edizione numero 727 della perdonanza celestiniana all'Aquila ieri è avvenuta la presentazione dell'evento vediamo Sindaco perdonanza 727 sicuramente sotto due segni in qualche modo il segno della rinascita ma anche sotto il segno del covid-19 e del green pass sì ci sono misure restrittive come l'anno scorso nonostante ciò non rinunciamo alla nostra festa principale che è quella del perdono che fra l'altro si freggia di questo riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO lo faremo con regole già rodate che però non impediranno a questa tradizionale ricorrenza di essere affascinante come un tempo di essere bella attrattiva nel rigore che richiede il periodo storico che stiamo che stiamo vivendo ma siamo certi di trovare il punto di equilibrio esattamente come è successo l'anno scorso in cui la situazione era molto più complessa molto più pesante anche molto più pericolosa se vogliamo perché fortunatamente i dati attuali ci raccontano ancora di una bassissima ospedalizzazione del contagio ma diciamo questo non è che ci farà perdere di vista il rispetto puntuale delle regole per l'edizione di quest'anno ho scelti tre figuranti molto particolari che sottintendono tre messaggi particolari quest'anno è dedicato un po' ai nostri giovani visti da sotto tutti i punti di vista idealmente sono rappresentate le insegnanti sono rappresentate le famiglie sono rappresentati i piccoli che hanno subito per troppo tempo la didattica a distanza sono rappresentati i giovani laureati che stanno recuperando la fisicità dei luoghi ci sono quelli che si formano nell'ambito artistico gli studenti dell'accademia del conservatorio cerchiamo di abbracciare i nostri giovani a cui confidiamo poter affidare in un tempo non troppo remoto le sorti di questa città nell'ambito della rassegna Abruzzo dal vivo dall'11 al 15 agosto a Civitella del Tronto si svolgerà il festival Civitas Fortezza d'Incanto i dettagli nel servizio dall'11 al 15 agosto a Civitella del Tronto all'interno della fortezza ci sarà Civitas Fortezza d'Incanto un festival internazionale di teatro medievale ci sono più di 20 compagnie di teatro medievale che quindi svolgeranno i propri spettacoli all'interno di parchi medievali allestiti appositamente ci sono più di 6 compagnie che fanno una rivisitazione storica degli ambienti e delle ambientazioni del Medioevo dal 1100 al 1300 che si susseguono tra di loro ci sono momenti didattici di queste compagnie che spiegheranno e più piccoli anche come si svolgeva la vita al tempo del Medioevo e ci saranno anche dei giochi medievali di legno per i più piccoli un progetto quello di Abruzzo dal Vivo sicuramente vincente che sta dando respiro ha dato respiro in questi anni a tutti i comuni colpiti dal terremoto quest'anno in particolare a Civitella ci sarà questa bellissima manifestazione per fortuna e per la prima volta ambientata in fortezza quindi possiamo riutilizzare questa location unica che è la fortezza per ospitare un festival internazionale di teatro musica ci saranno tanti 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 artisti siamo veramente molto felici perché nonostante diciamo dopo il periodo del covid c'è da ricordare che i nostri comuni soffrono un periodo diciamo di difficoltà che è antecedente al covid parte dal terremoto quindi siamo felici di poter ripartire seppur consapevoli del fatto che ci saranno delle regole da rispettare ma ben consci di volerlo fare anzi e prendiamo questo quest'evento veramente come un segnale di ripartenza la pagina dello sport sarà l'Ancona Matelica la prima avversaria in campionato per il Pescara il prossimo 29 agosto il debutto assoluto in Coppa Italia avverrà sabato 21 all'Adriatico contro l'Olbia in queste ore resta però centrale il nodo mercato con le uscite dei giovani attaccanti Borrelli e Belloni Andrea Costantini un calendario che sarà come una montagna inizio discretamente impegnativo poi l'ascesa verso le gare più complesse quindi la discesa verso l'arrivo si può riassumere così il cammino del Pescara stando a quei ragionamenti che si fanno sulla carta pronti a essere chissà anche smentiti dal campo ma se le principali antagoniste per la vittoria del campionato sono le retrocesse Virtus Entella e Reggiana e un Modena che sta facendo un mercato importante queste squadre il Delfino le affronterà proprio a metà del girone di andata e ritorno in particolare si parte dalla settima giornata con Pescara Reggiana 3 ottobre e 10 febbraio poi Virtus Entella all'ottava Modena alla decima in un doppio match casalingo preceduto da quello con la fermana quindi Cesena e il derby col Teramo poi la conclusione del girone con un trittico di Toscane poker in caso di presenza della Pistoiese e chiusura con Limolese l'inizio non sarà da sottovalutare il Matelica degli abruzzesi d'adozione Colavitto e Miciola è riduce da una splendida stagione e cerca conferme pur avendo perso alcuni elementi importanti e anche la prima trasferta a Carrara farà affrontare al Pescara una squadra che in questi anni è sempre partita con importanti ambizioni ha avuto nomi altisonanti ma senza compiere il salto di qualità in panchina l'ex azzurro e bomber dell'Udinese Totò di Natale sul calendario il tecnico del Pescara Gaetano Auteri non si scompone più di tanto è molto difficile fare pronostici perché insomma poi una squadra vale l'altra non c'è ho sempre pensato quello non c'è partita in casa partita fuori avversario più difficile più facile prima o poi bisogna incontrarle tutte sarò ovvio ma è così veramente poi magari più avanti si determinano alcuni valori allora uno può dire delle cose in più ma in questo momento prendiamo atto di come è uscito questo calendario e man mano affronteremo tutti stagione ufficiale che partirà sabato 21 agosto con il match di Coppa Italia l'Adriatico contro l'Olbia la vincente sfiderà il 15 settembre la vincente di Grosseto Campobasso sul frontemercato la giornata odierna può essere importante per la vicenda portiere si continuerà a lavorare per riportare in bianca-azzurro Mirko Pigliacelli che però ieri a sorpresa è tornato a titolare nel match di campionato vinto dal Craiova sul Voluntari dopo che nelle due gare precedenti gli era stato preferito il neo arrivo la ZAR si lavora sull'ipotesi del titolo definitivo o del prestito con obbligo di riscatto ma resta una trattativa non semplice con un Pescara pronto a virare verso altri profili alcuni sotto contratto altri svincolati come Iacobucci e Di Gennaro intanto si sfoltisce il reparto offensivo sono in partenza Gennaro Borrelli e Nicola Sbelloni Borrelli va in prestito al Monopoli nel girone C e spera di proseguire quel percorso di crescita avviato lo scorso anno con la maglia della Juestabia l'argentino sarà invece avversario dei Biancazzurri poiché va in prestito a Limolese di Gaetano Fontana prima esperienza lontano da Pescara da quando è arrivato in Italia resta aperta la pista Foggia per Andrea Di Grazia in entrata torna immancabile come ogni estate l'accostamento a Federico Melchiorri in uscita dal Perugia giocatore capace di interpretare il ruolo di centramanti ma anche di esterno nei prossimi giorni si capirà se la trattativa può entrare nel vivo e nella giornata di oggi incontro tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e l'agente del portiere Mirko Pigliacelli tra le parti l'intesa è ad un passo poi si dovrà trovare l'accordo tra la società Biancazzurra e i romeni del Craiova attuale formazione dell'estremo difensore trattativa che al momento prosegue bene se la trattativa dovesse andare in porto per Pigliacelli si tratterebbe di un ritorno per il 28enne portiere romano Entella Siena e Modena per un tris insidioso il calendario del Teramo parte in salita ma poi diventa meno ripido derby a novembre e marzo e chiusura con la Reggiana esattamente come quattro stagioni fa il servizio di Jacopo Forcella l'avvio parole anche del tecnico Federico Guidi e del DS Carlo Musa è certamente in salita il Teramo parte il 29 agosto per la trasferta più lunga della stagione e anche per una di quelle più complicate ad attenderlo c'è la Virtus Entella del confermato Gennaro Volpe ma più in generale contro una di quelle compagini che per organico ha le carte in regola per arrivare fino in fondo tra i primi posti dopo la retrocessione i Liguri hanno comunque confermato buona parte di coloro che c'erano anche nella Serie B è andato via De Luca così come Mancosu Brunori Rodriguez Albertazzi e De Colli in compenso però oltre a Mercai che tanto bene ha fatto a vasto Gerardi in Serie D ha anche Daniele De Sena cui sarà affidato il centrocampo Barlocco dal Vicenza Facundo Lescano e il giovane Di Cosmo dalla Virtus Francavilla che vanno ad aggiungersi al capitano Pellitzer Chiosa Coppolaro l'abruzzese Andrea Polucci Leonardo Morosini Capello e Magrassi insomma un organico davvero super la seconda in casa l'esordio al Bonolis sarà col Siena squadra che viene dalla Serie D ma che ha colto dietro con Son a centrocampo a quadro ultima annata a Notaresco e l'ex bomber del Cesena Ricciardo l'inizio difficile si completa col Tressa a Modena del 12 settembre anche i canarini sono tra le big del raggruppamento Attilio Tessera ha una rosa di grandissimo spessore per Greffi Ingegneri e Matteo Ciofani dietro in mediana scarsella dalla Ferralpisalò e davanti una clamorosa abbondanza Tulissi Costantino Monachello Marotta Luppio Gunsei e Minesso una batteria da far spavento dopo le prime tre però il calendario si fa meno ripido il diavolo chiuderà a settembre con Vispesaro Imolese e nel primo infrasettimanale a Lucca ad ottobre sei partite la più affascinante certamente quella in casa col Cesena del 24 tra le trasferte di Grosseto e Montevarchi e prima del novembre che porta al derby del 14 contro il Pescara altra strafavorita del Girone B Olbi in casa e lo stadio dei Marmi di Garrara prima di dicembre che chiude l'andata e apre il Girone di ritorno trasferta a Pontedera in casa contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto e la chiusura complicatissima a controllare già nel 19 ma prima di Natale e dello stop per le festività si ricomincia col ritorno il 22 al Bonolis ripartendo proprio dalla Virtus Centella il ritorno vedrà le trasferte a Siena primo turno del 2022 il 9 gennaio Pesaro contro la Vis Viterbo e Gubbio ma prima del Barbetti altro infrasettimanale per il momento contro una X con la Pistoiese in vantaggio sul Fano per completare la lista di formazioni del Girone B a marzo al Manuzzi c'è il Cesena l'altro infrasettimanale di Fermo prima del derby di ritorno allo stadio Gaetano Bonolis del 20 marzo una settimana dopo si vola in Sardegna a far visita all'Olbia prima del rush finale di aprile in casa con Carrarese e Pontevera nelle due casalinghe consecutive venerdì 15 aprile trasferta ad Ancona due giorni prima di Pasqua e chiusura tra le Muramiche contro la Reggiana esattamente come nella stagione 2017-2018 con quel 3-3 che non salvò il Teramo condannato ad un play-out che però non disputò mai perché le irregolarità contabili del Sant'Arcangelo condannarono il Giallo-Blu ad una penalizzazione di due punti col diavolo che festeggiò invece la salvezza diretta chiusura il 24 aprile dunque prima della fase 2 stavolta per il Teramo non sarà così facile centrarla considerando la concorrenza e la necessità di abbassare ulteriormente i costi di gestione Guidi ci proverà e il mercato ancora aperto è lì per provare a dargli una mano scendiamo di categoria sarà ancora un pineto delle grandi ambizioni quello che si presenta ai nastri di partenza del campionato 2021-2022 di Serie D ad annunciarlo e Roberto Gianmarino direttore generale della formazione Bianca Azzurra dal mercato sono arrivati giocatori di spessore come Cardella Pezzotti Albanese oltre ai rinnovi di elementi che hanno ben figurato già nella passata stagione vediamo quest'anno forse è stato l'anno più difficile ma che ci ha dato più soddisfazioni saremmo felicissimi di arrivare a un traguardo importante però la cosa più importante è continuare a fare dei campionati importanti e far divertire le persone essere corretti mantenere sempre l'educazione giusta dovunque andiamo e quello è il messaggio che Pineto Calcio dà ogni anno è chiaro che l'obiettivo che abbiamo raggiunto è un obiettivo per me incredibile perché vista la situazione vista come si erano poste le nostre problematiche all'inizio dell'anno con i 46 giorni di Covid il fatto che molti non credevano che il Pineto potesse raggiungere certi obiettivi quella forza ci ha dato quella forza in più per arrivare e per fare quel miracolo che abbiamo fatto quest'anno abbiamo cercato di rimettere di mantenere ci è dispiaciuto togliere qualcuno ma era impossibile mantenere tutta la rosa anzi vi posso assicurare che è stato molto doloroso dire a qualcuno guarda quest'anno non fai parte di questo gruppo perché? perché erano stati tutti talmente bravi che ci siamo ci si è ci si è ristretto il cuore però dovevamo fare delle scelte abbiamo fatto delle scelte speriamo di aver fatto delle scelte importanti giuste abbiamo cercato di rinforzare la squadra abbiamo un mix tra giovani e vecchi che credo sia il campo chiaramente darà la sua risposta però la mia speranza è che la sedia che il girone F torni ad essere col girone sulla fascia triatica e con qualcosa di Umbro o di Laziale è chiaro che le trasferte al sud le trasferte nel Basso Lasio sono un po' più particolari per noi perché distano oltre tre ore tre ore e mezza di macchina quindi noi chiaramente pensiamo sempre a qualcosa di più comodo ho sempre detto al Presidente che noi siamo una società e questa è la categoria che più secondo me si addice al Pineto e alla città di Pineto è chiaro che non ci tireremo indietro se dovesse succedere qualcosa oltre è chiaro che si aspetta la riforma per poter per poter posizionare una squadra di queste dimensioni in quel campionato ecco la di d'elite che il nostro Presidente vorrebbe vorrebbe tanto vorrebbe tanto partecipare a questa categoria e questa era la nostra ultima notizia tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social youtube e al sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e arrivederci grazie per la visione